Cari amiche e cari amici, un caro saluto da Maria Scalisi. La volta scorsa abbiamo visto come Rosmini, a partire dal numero 92 della sua opera, introduce il concetto di semplicità del principio senziente e la natura composta del termine sentito. La natura del principio senziente, cioè dell'anima, è semplice, mentre la natura del termine sentito, cioè del corpo, è composta. Il principio sensitivo sente, ma non fa sentire, non è capace di provocare a sentire. Il principio sensifero fa sentire, provoca a sentire, ma non sente. La vita risiede propriamente nell'anima, nel principio sensitivo. La vita consiste nel sentire più che nel provocare a sentire. In quanto il corpo opera sull'anima, diciamo che si tratta di un corpo animato o vivo. Il corpo non è vivo di per sé, dice Rosmini, ma è vivo in quanto è animato da un principio che lo rende vivo. Premesso che anima e corpo non si possono confondere, Rosmini si chiede che relazione esiste fra l'anima e il corpo. Tra l'anima e il corpo esiste una relazione di opposizione. Mentre il corpo, principio dei fenomeni extrasoggettivi, è esteso, cioè presente in uno spazio, è delimitato in uno spazio, l'anima, principio dei fenomeni soggettivi, è essenzialmente inestesa. Lo spazio, dice Rosmini, per sua natura è inesteso. Ciò che determina l'estensione nello spazio sono i corpi. I corpi delimitano lo spazio. Dicendo quindi che il corpo è esteso, vogliamo dire che occupa una parte dello spazio. La relazione tra spazio e corpo ci aiuta a capire la relazione tra l'anima e il corpo. Ciò che è inesteso è semplice. Ciò che è esteso è composto di parti. Il principio senziente non è localizzabile in una parte del corpo. Non è suddiviso in parti e nemmeno esiste un altro principio senziente. Invece il corpo è un insieme di parti. Rosmini ci tiene a specificare che l'idea di semplicità è distinta e opposta all'idea di composizione perché semplicità indica l'idea di una unità non divisa. Invece l'idea di composizione può indicare l'idea di unità ma soprattutto di presenza di più parti nell'unità stessa. Ad esempio il corpo, umano o animale, è composto di vari organi. L'orecchio, l'occhio, le gambe, queste parti sono animate dall'unico principio vitale che è l'elemento di unità del corpo stesso che le sorregge e le mette in relazione tra di loro. Possiamo dire che questo unico principio vitale è presente in tutte le parti ma non si identifica con nessuna. Per capire meglio questa relazione tra l'anima e il corpo Rosmini dice che possiamo riprendere conviene riprendere la relazione tra sentimento e sensazioni. Le sensazioni sono molteplici riferibili almeno a cinque organi. Queste sensazioni sono possibili perché c'è un sentimento indistinto, originario, non figurato che precede le sensazioni stesse ma non si identifica con nessuna di queste sensazioni. Possiamo riprendere anche la relazione tra l'idea universale dell'essere e le varie conoscenze dice Rosmini. Noi siamo capaci di infinite conoscenze perché c'è l'idea universale dell'essere che però non si identifica con nessuna delle conoscenze. L'idea dell'essere il nostro potenziale conoscitivo cioè la nostra facoltà di conoscere è intatta pur essendo continuamente applicata a tante conoscenze. Detto questo come ricorderete Rosmini ci parla della categoria dell'identità. Al di sotto delle sensazioni c'è un'identità del sentire. L'identità vuol dire che un soggetto animale è capace di tante operazioni dormire camminare ma il soggetto di queste operazioni è uno ed identico. Solo un principio semplice può unire insieme tante sensazioni e rendersi il soggetto di tutte. Si tratta di un principio semplice perciò inesteso rispetto al corpo che invece è composto ed esteso. Categoria dell'identità quindi unione dell'anima con il corpo e questa relazione è unica non ripetibile. Ecco la volta scorsa c'eravamo fermati qui oggi andiamo avanti e prendiamo pagina 102 cari amici al numero 135 leggiamo dopo aver chiarito la natura del principio senziente che si chiama anima e la sua relazione con il principio sensifero che si chiama corpo è bene tener presente che per proseguire le ricerche è necessario prima di tutto spogliarsi delle comuni idee che noi abbiamo intorno al corpo e intorno all'anima come pure diffidare di tutte le maniere che sono in uso parlandosi di sostanza materiale e di sostanza spirituale l'opera che noi vogliamo svolgere è di vedere come cominciano e come vengono formandosi nella nostra mente le idee di corpo e di anima e perciò quale sia il loro valore e se nulla aggiunge ad esse l'immaginazione è un invito significativo quello di Rosmini perché questa trattazione presenta degli elementi di novità rispetto alla tradizionale definizione e al tradizionale sviluppo dell'antropologia e della stessa concezione dell'anima e del corpo ebbene quindi liberarsi delle idee che sono comuni di quelle idee che non sono scientifiche e che fanno parte di una abituale mentalità e riportare in altre parole l'idea di anima al principio vitale in quanto l'anima è il principio vitale e riportare la nozione di corpo all'animato o all'animale nel senso letterale della parola ciò che è animato ciò che è reso vivo ciò che è pervaso da un principio di vita è una distinzione molto semplice questa perché tende a chiarire bene il principio che anima e il termine che è animato tuttavia occorre dire nello stesso tempo che questa relazione tra anima e corpo non è soltanto unidirezionale in quanto non va solo dall'anima al corpo ma anche dal corpo all'anima perché mentre l'anima è principio di vita per il corpo e quindi sente il corpo il corpo a sua volta provoca l'anima a sentire la natura umana per esempio per quanto ha di comune all'animale condivide tutta questa relazione e quindi tutto ciò che qui diciamo vale anche per l'uomo per sviluppare questo percorso di approfondimento dice Rosmini è bene che l'analisi e l'osservazione riguardi tutti i sentimenti di cui siamo capaci o meglio le sensazioni di cui siamo capaci o abbiamo coscienza ma soprattutto è necessario partire dal principio del sentire dal sentimento stesso rispetto al quale le sensazioni non sono altro che delle modificazioni e quindi prima di tutto parliamo di quel sentimento primo originario che annunzia il corpo il sentimento che dà al soggetto che lo possiede l'appartenenza al corpo e cioè il sentimento fondamentale corporeo cari amici questa è una dottrina sviluppata in modo originale da Rosmini nel nuovo saggio sulle origini delle idee prima opera sistematica dedicata proprio al problema della conoscenza del come in noi nascono le idee ma per adesso quello che ci interessa immediatamente è esaminare quella parte che è comune sia all'animale che all'uomo e quindi non lo riferiamo alla parte intellettiva o meglio alla relazione che nell'uomo esiste tra sentimento fondamentale corporeo intelligenza e volontà qui tocchiamo semplicemente la questione relativa al sentimento primo originario che ciascun animale e quindi anche l'uomo in quanto animale ha dice Rosmini non parliamo quindi del sentimento fondamentale intellettivo ma del sentimento fondamentale corporeo il quale sentimento fondamentale corporeo va separato distinto da qualsiasi sensazione successiva perché non si identifica con nessuna delle sensazioni pur essendo alla radice di quelle sensazioni intanto noi abbiamo delle sensazioni perché abbiamo un sentimento perché siamo capaci di sentire e per avere un'idea afferma Rosmini conviene chiudere gli occhi liberandoci di tutte le sensazioni di cui siamo capaci della luce dei sensi esteriori dei sentimenti parziali tutto ciò che insomma è circoscritto ad un aspetto sicché tolte via interamente le sensazioni esterne e parziali diciamo che rimane nel fondo originariamente quello che abbiamo denominato sentimento fondamentale corporeo o sentimento del vivere questo sentimento fondamentale corporeo quindi che precede tutte le altre sensazioni si identifica col sentimento stesso della vita cioè con il fatto di essere vivi e di essere vivi in un corpo sicché il primo oggetto per esprimerci così di questo sentimento è il corpo di cui costantemente permanentemente sentiamo attraverso il sentimento l'appartenenza detto in altre parole il sentimento fondamentale corporeo è la percezione permanente dell'unione vitale dell'anima col corpo ripeto il sentimento fondamentale corporeo è la percezione permanente dell'unione vitale dell'anima col corpo questo sentimento è uniforme è uniforme e semplicissimo perché in esso non vi sono figure in quanto la figura è data dai sensi non vi sono colori perché i colori sono dati dal senso degli occhi non ha confini non è delimitato e pertanto non è esteso ha natura semplicissima ed è indeterminato perché è prima di qualsiasi determinazione sensitiva e quindi prima di qualsiasi figura e sensazione è un sentimento sostanziale o per dire meglio il sentimento di una unione sostanziale cioè di una unione tra l'anima e il corpo che è costitutiva di quel soggetto ne costituisce la sostanza e quindi non è accidentale ma è un sentimento che ha per oggetto questa unione vitale la cui sostanza o l'unione come sostanza ha per termine non soltanto il corpo ma il corpo in quanto è reso vivo dall'anima è un sentimento fondamentale permanente perché se cessasse anche la vita stessa cesserebbe nella prossima lezione diremo come il sentimento fondamentale corporeo in quanto percezione vitale dell'anima con il corpo è il sentimento di un'attività e il sentimento di una passività rosmini ci porterà a considerare con le sue riflessioni che il corpo appartiene all'anima e viceversa l'anima appartiene al corpo l'uomo afferma rosmini è un'unità una unione sostanziale di anima e corpo grazie per l'ascolto arrivederci e vi aspetto alla prossima lezione sempre sull'antropologia in servizio della scienza morale di Antonio rosmini grazie grazie